Abbiamo registrato un dato di fatto che il 70% delle tasse sull'altigianato del PMI a Firenze è uno dei dati più alti d'Italia. Cioè significa paradossalmente, nemmeno tanto, che fino al 15 settembre di ogni anno le imprese lavorano per pagare le imposte e solo da quel giorno in poi, fino alla fine dell'anno, fanno reddito. Cosa propone a questo punto la CNA per ovviare il problema? Beh, capiamo le difficoltà dei comuni per cui le imposte si trasferiscono a livello centrale e a livello territoriale, però per le imprese non cambia niente, quindi ovviamente maggiore attenzione a chi lavora, a chi produce, a chi dà occupazione in questa regione piuttosto che alla rendita. Quindi misure che contengano l'imposizione fiscale sulle imprese, che sono riduzione della tassazione per esempio sui comuni.